Le terme romane della linguella Portoferraio Durante gli scavi archeologici del 1979, 1990 e 1991 Vennero alla luce alcune strutture termali romane Altre erano state distrutte e coperte dalle costruzioni medicee Si tratta di un grande impianto termale con quattro fasi di vita Dal primo secolo a.C. al terzo secolo d.C. Probabilmente di uso pubblico a servizio del porto romano Per la maggior parte rivestite in pietra in opera reticolata Oppure costruite in mattoni Esse racchiudono ambienti con pavimenti a mosaico O a lastre di marmo E con le pareti rivestite di intonaci, dipinti e marmi I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare Sono stati restaurati di recente I pavimenti originali sono stati sostituiti con copie E ricostruiti all'interno del Museo archeologico della Linguella I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare I muri antichi, che spesso vengono sommersi dal livello del mare